E' partita allora la prima serie del 40 A, Motus Atletica Castagnato B, Motus Atletica Castagnato A, QSB, Atletica Valtropia, Atletica Pianne 64 C, B, Atletica Pianne 64 C, Atletica Pianne 64 C. La firma lo chiamano così a queste le solità impegnate in questa prima delle tre serie della 4% donne, le atlete sono al secondo cambio, stiamo alla seconda cura, adesso rettilineo finale per le atleti di questa prima serie, la B, Motus Atletica, Motus Atletica che hanno cambiato davanti a tutte le ore, vinto dal pubblico, Grazie a tutti, grazie a tutti.